Quasi 50.000 euro già raccolti, donati e inviati all'Ucraina. E ancora 135 famiglie pesaresi che hanno dato disponibilità ad accogliere famiglie in fuga dalla guerra. Sono questi alcuni dei numeri dell'azione della Caritas diocesana di Pesaro che dall'inizio del conflitto si resa disponibile a convogliare la raccolta fondi da recapitare all'omologa Caritas ucraina. È partito il primo bonifico di oltre 48.000 euro, ma ancora più complesso di gestire denaro da inviare in Ucraina è la gestione dei profughi in arrivo sul territorio. Un'accoglienza che si sta mettendo in discesa di fronte alla tanta disponibilità delle famiglie pesaresi. Per quanto riguarda l'atto dell'accoglienza stiamo ricevendo veramente tantissime chiamate da tutta la comunità pesarese che in ogni forma e di modo si sta dando disponibile per ospitare o sostenere veramente le famiglie che stanno arrivando. Abbiamo attivato in coordinamento appunto con le altre persone che ho citato prima una primissima accoglienza nella parrocchia di Villa Fastigi e in futuro stiamo studiando il modo di promuovere un'accoglienza più a lungo termine anche per queste famiglie. Chiaramente sempre in contatto con le istituzioni, prefettura, comune e tutti gli altri. Ad oggi a Pesaro sono arrivate poco meno di 150 persone provenienti dall'Ucrania ma chiaramente se ne prevede un numero molto più ingente proprio a livello nazionale quindi immaginiamo per ricaduta anche nel pesarese. È molto bello anche sottolineare che ci sono state almeno 150 famiglie che hanno dato la disponibilità ad accogliere queste persone. Chiaramente è un'accoglienza che va verificata nel senso che va capita e compresa per quanto tempo poi c'è questa disponibilità delle famiglie. Nel frattempo sappiamo che comunque anche la prefettura si sta attrezzando maggiormente per riuscire a far fronte a quella che è un po' una nuova crisi umanitaria di questo periodo. Donazioni e accoglienza, due linee d'azione di spirito cristiano meritevoli di ringraziamento. Inizio ringraziando poi capita anche diciamo a proposito il nostro arcivesco come presidente di Caritas perché diciamo ecco ha attivato anche una raccolta fondi presso le parrocchie, presso le comunità parrocchiali la prima domenica di quaresima e sono testimone diciamo continuo a essere testimone di questa generosità perché è stata attivata questa raccolta fondi che già diciamo raggiunto una cospicua cifra siamo arrivati quasi a 50 mila euro e oggi partiranno tutti questi soldi diciamo con un bonifico per verso Caritas italiana per essere poi immediatamente diciamo mandati in Caritas Ucraina, in Caritas diciamo delle regioni limitrofe per far fronte diciamo ai bisogni delle persone sfollate quindi questo è un grande diciamo così ringraziamento al territorio ma un ringraziamento anche per la rete di solidarietà.